Grazie a tutti. La voglia di stare in compagnia dei nostri ascoltatori, la voglia di stare qua davanti a due apparecchiature microfoniche che quando soltanto li vediamo, anche se stiamo male, sicuramente non stiamo al meglio della nostra salute oggi tutte e due. E io penso anche per te, no? Che sei generoso. Penso anche per te che sei stata male tutta affebrata, mi hai scritto, ho la febbre a go go. Ma com'è la febbre a go go a proposito? Allora, intanto io non stavo male, io ti ho detto una bugia perché volevo che tu ti scimentassi qui da solo a fare un programma in maniera tale da poter tenere compagnia ai nostri ascoltatori e poi alla fine non mi è andata bene. Non ti è andata bene. Si vede comunque, tutti quelli che ci seguono in streaming possono vedere che hai un bel giubbotto addosso, un bel colore, un fucsia, lo definiamo fucsia. E che ne so, intanto me lo tengo perché non si sa mai, sento un po' di freddo. Con la capigliatura color champagne. Ma non è solo color champagne, è anche un po', diciamo, ma insomma, cane che fui. Una voce alla Claudia Cardinale stamattina, comunque, bando alle ciance o ciance alle bando, come si vuol dire, stiamo tutti bene, anche perché siamo sulle frequenze di Radio Doc. Siamo tutti bene, stiamo tutti bene, stiamo tutti bene, stiamo tutti bene, sta canzone non è che mi si... no, niente, lui in questo momento non raccoglie. Lo sai, lo siamo... Raccoglie le olive. Lo sai che è la prima trasmissione che facciamo e che abbiamo esteso le nostre frequenze. Salutiamo tutti gli amici che ci ascoltano nella zona est di Capodorlando, una zona che va fino a Villa Franca Tirrena e tutta la Valle del Mela. Un saluto a tutti. Le frequenze che state ascoltando sono quelle di Radio Doc che trasmette da Capodorlando. Il programma è Detto Tra Noi. Detto Tra Noi è un programma che settimanalmente è condotto in studio dalla nostra Terri in compagnia mia di Turi il lunedì e il giovedì. È un programma che si terrà con voi dalle 11 alle 13. Bene, dalla regia ci fanno un segnale, ma equivoco, che cosa intendono dire? Due dita, due dita, taglia, taglia. Bene, allora, amici, andiamo con la musica. Questa è Radio Doc. Ben arrivati ai nuovi ascoltatori, sempre che ci siano. Beh, noi faremo di tutto per invitare qualcuno in maniera tale da allargare i nostri orizzonti. 11 e 13 minuti primi si va con Radio Doc Music. Pollice in su. Pollice in su vuol dire si parte oppure siamo stati graziati dalla nostra regia. Buongiorno, a proposito, buongiorno al nostro Marco Gentile, che ci segue sempre con la sua altissima professionalità dietro un banco regia immenso. Immenso. Ma ha offerto il caffè stamattina, ma ha offerto il caffè Marco. E che cosa significa? L'avanzo? Lui mi guarda e dice, ma quando? L'avanzo Marco, l'avanzo? Tranquillo? No, tu non puoi prendere caffè. Bisogna mantenersi calmi, tranquilli. E poi, ad inizio settimana, bisogna stare molto attenti, sai. Perché poi l'accumulo può creare anche problemi. Certo, come no? Di che natura? Di che natura? Eh, natura, fisici. Natura? Natura matrigna? No, aspetta, che cosa volevo dire? Non me lo ricordo più. Decisamente ancora non sei al cento per cento, eh? Eh, di che natura? Natura fisici? Non mi sono impappinata. Eh beh, sai, queste domande, dopo un periodo di riposo, giungono veramente come un colpo di bastone sulla testa. Ma tu hai visto che cosa ci ha combinato la nostra amica? Sì, ha fatto un bel servizio fotografico già di prima mattina. Salutiamola, salutiamo Mariangela a Milano, salutiamo tutti coloro che ci ascoltano e ci sentono e ci vedono in streaming su Facebook. Un bacio a tutti. Oh, lui si spende veramente molto bene. Un bacio a tutti. Hai notato che stamattina siamo veramente di un rosso relativo? Ma non è proprio relativo. Se dovessimo giocare alla roulette stamattina punteremmo solo sul rosso. Beh, sai, molto probabilmente non vinceremmo, per cui è meglio puntare sul nero. Guarda, e come disse Celentano, fra il rosso e il nero esce sempre lo zero. Lo zero. Non paga. Nera azzurro. Nera azzurro. No, scherzi a parte, molto sfortunata. La sfortuna dell'Inter si è accavalata con la fortuna del Napoli ieri. Che vuoi fare? Il Napoli... Capiva il tuo silenzio a proposito della domenica sportiva. C'è il sabato del villaggio e la domenica sportiva. Ieri è stata veramente una domenica piena di sport, strapiena di sport. Mamma mia, Formula 1. Gran premio. Come no? Qualche cosa so. GP. GP, GP. Moto GP con Rossi che ha fatto le... Mamma mia, che cosa hanno comito. La vergogna di Marquez, ma la vergogna più grossa è che i giudici argentini non sono riusciti a squalificarlo. Quel signore là, se non lo fermano in qualche modo... Ammazza qualcuno. Se non lo fermano in qualche modo, ha tutte le caratteristiche di un killer su pista. Signore, là non si scherza. La sono su due ruote e vanno a 320, a 330 all'oro, tanto quanto vanno le macchie di Formula 1. Solo che quelle sono molto più protette perché hanno una cellula interna fatta ad personam. Va bene, e lì dentro ci sei, e lì dentro non ti può muovere nessuno. Ma con le moto, a 300... Ma poi come si mette nelle gambe del corridore. Valentino ieri spiegava, e sentivo stamattina anche, e gliene ha detto di tutti i colori. Non ha accettato le scuse? Sì, sì. Non le ha accettate? No, anche perché dice che le scuse sono false, visto che è considerato che chiede sempre scusa, ma poi lo rifà. Per cui effettivamente bisogna porre un freno, bisogna porre far qualcosa per fermare questo ragazzo, che a dire il vero è molto leggero. Cioè, lo fa di proposito, con intenzione, per cui è veramente un killer. E' imprudente. E dire che chiedere scusa è già un presupposto di uno sbaglio. Bene, regia, avevamo un brano da mandare oggi. Lo possiamo mandare ora o lo mandiamo dopo? Lo mandiamo dopo allora. E allora, vediamo cosa ci proponi. Ma tu vedi? No, non vedo io. E se non vedi, basta. E' tutto tuo. No, lascia perdere, perché a me presentare brani non piace. E' un compito solamente tuo. Ripetere le frequenze non mi piace, perché tanto non me le ricordo. Io ormai ho un amico che mi tiene compagnia. E' un tedesco, ma quanto è buono! E si chiama Alzheimer. Alzheimer, pensavo fossi un pastore tedesco. E beh, magari un pastore tedesco alla mia età può andare bene. E' sicuramente meglio dell'Alzheimer. Dai, chi sono questi? Rudimental Fit? Ah, ma vedi! E così ci vado a intuito. La cambio io! Britney Spears, madonna! No, sai cosa? Ma mi sento un po' strana. Ah, ecco, adesso... E certo, mi sento un po' strana. Sembravo... Sembravo Patti bravo. La cambio io, la vita mia... Era così che cantava lei. Fallo di nuovo, fallo di nuovo? Guarda che è molto somigliante come tonalità di voce. E se mi faccio i capelli lisci? Non so se mi spiego. Allora, sai che la Patti oggi, per lei, è un giorno molto importante? Ah, la miseria! E che farà mai? 70 anni, 70 anni, 70 anni, con più di 50 anni di successi, dobbiamo dire. 70 anni. Ti ricordi che c'era una poesia? Mia madre ha 60 anni e più la guardo e più mi sembra bella. Questa ha 70 anni e più la guardo e più mi sembra bella. Abbiamo aumentato di 10 anni l'età e lei non invecchia mai. Dico qualche ritocchino, qualche ritocchino, un po' qua, un po'... Qualche, 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 un canottino. Non diciamo tutti. Un canotto qua, uno là. Una pagaia a destra, una pagaia a sinistra. E sono sistemata. Che arriva a 70 anni e la omaggiamo. La omaggiamo con uno dei suoi brani più belli, forse. Ma comunque, a me piace ricordare Patti Bravo con La Bambola. La Bambola. Quando al Piper faceva impazzire tutti i giovani ragazzi. Ma che cosa stupenda questa donna. Era il mio idolo. Ah, ragazzo triste. Chi siamo noi, i turi? Io l'ho dimenticato. Ma dovrei ricordarlo veramente. Ormai ci conoscono tutti comunque. Lei e Terry, lei e Terry, alla mia destra, tutta in rosso stamattina. Tutta in rosso. In rosso pure io, in rosso il nostro tavolo regia, tutto in rosso. Io sono Turi e trasmettiamo da Capodorlando su Radio Doc. 11.45 minuti primi, detto tra noi il programma che ascolterete giornalmente dalle 11 alle 13, lunedì e giovedì goderete della nostra compagnia. Mamma mia, ma che fortunati voi ragazzi, ma che fortunati avete Turi e Terry. Ma anche le ragazze sono fortunate, non solo i ragazzi. Ragazzi. Pensi solo per te. No figlio me, io parlavo così in generale, il plurale, che comprende il maschio e la femmina. Ma è sulla promiscuità. Ma sì, ma tu, ora dico io, sei più grandicello di me, per cui hai dimenticato anche il maschile, il femminile, il plurale. Niente, i banchi di scuola per te ormai sono ricordi. Ah, ognuno è il suo. Ah, ognuno è il suo. Io ho bisogno di ritornarci. Eh, cavolo, come l'ha capito quest'uomo qua. Senti, senti, da qualche giorno è questa parte. Vado leggendo sui giornali che le strade di Capodorlando sono tutte buche e buche, tipo Roma e compagnia bella. Bene, io spero di darvi una buona nuova stamattina. Ah, ma Turi è la persona più informata di Capodorlando. Ovviamente ha saputo. Ma come sei riuscito ad avere queste notizie in anteprima? Non ho saputo, ma l'ho provato di persona. Sulla consolare antica stanno già tappando dalle prime ore di oggi. E come tappano? Perché anche io l'ho visto. Quindi c'è il tappico un pochino a rilento, però diciamo tutto a beneficio delle nostre auto, tutto a beneficio delle nostre persone. Stanno sistemando comunque. Sì, mi piacciono questi lavori perché sono fatti ad opera d'arte, sono dei capolavori. Saranno adeguati i rattoppi alla strada nel momento in cui ci passeremo un 4-5 giorni. Un quadratino qua, un rettangolino là, un cerchio là. Insomma, stanno cercando di tappare tutte le buche che si erano create sulla nostra consolare antica. D'altronde consideriamo che la consolare antica è la strada più battuta che c'è a Capodorlando. Non puoi dire, più battuta, io non le vedo mai. No? No, mai. Tu dove abiti? A Santa Lucia. Una traversa della consolare antica ti nascondi. Ah, più battuta questo ragazzo. Dalle auto, dai pullman, dai camion. No, 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 è veramente trafficata nel vero senso della parola. La cosa che mi piace ricordare è la preparazione di Turuzzo. Lui viene qua ed è sempre preparato, è sempre informato. Antonio Puglisi, attento, attento Turuzzo, ti prenderai il posto. Io il lunedì e il giovedì, quando sono qua in tua compagnia, in compagnia dei nostri carissimi radioascoltatori e videoascoltatori, diciamo che la mattina mi alzo presto, faccio il giro per vedere, se ci sono novità, non ci sono novità, cose di cui parlare o meno. Insomma, rapportare il meglio e il tutto a chi ci ascolta. Ora io dico, Turuzzo, ma perché non ti fai fatto do? Ti devi prendere i fatti di Blandini. I fatti vostri, quello è un altro programma. È un'altra storia. Con correntini nuovi, con correntini nostri che vanno sulla Rai. Allora, parlavamo prima, quando avevamo avuto la gioia di ascoltare la nostra amica Patti Bravo, di Anna Ocsa. Ma molto probabilmente abbiamo qualcosa noi di Anna Ocsa. Perché parlavamo di Anna Ocsa e Patti Bravo? Parlavamo anche di un altro soggetto, un soggetto veramente di una sensualità unica. Perché mettevamo in evidenza la sensualità di questa grande donna, qual è Patti Bravo, nonostante la sua età, nonostante i ritocchi amici miei, una che è sensuale, una che è sexy, manterrà inalterato nel tempo questa caratteristica. Così, per esempio, come piena di verve, di energia, gasata al massimo, è quella donna che io adoro e che risponde al nome di... Tu lo dovresti sapere, come lo sa il mio amico Marco Gentile, al quale rompo sempre le scatole quando ho bisogno di essere tirata su... Una spinta in più, un tirami su e allora ricorri a lei, ricorri. Ricorro a Cino Turner, che è la fine del mondo. E non ha 70 anni da tirata a Turner. Ne ha 76. Ne ha qualcuno in più. Ne ha 76, perché lei è grandicella. Grandicella. Insomma, considerato che la vita inizia non più a 40, ma a 60 anni, 76, 78 e anche 80, che vuoi che siano? Se tu consideri che qui a Capodorlando abbiamo festeggiato il compleanno di due persone centenarie, Ora, io il nome di queste ragazze non me lo ricordo. Io ricordo il cognome, la signora Michale. La signora Michale che ha 100 anni. E poi abbiamo festeggiato la nonna di Federica Leone, questo me lo ricordo, che ha compiuto 104 anni. Ma che cosa stupenda. Vuoi mettere che io non arrivi a 104 anni? Ma io le scatole le devo rompere a qualcuno. Il record a Capodorlando comunque lo mantiene il signor Mangano. Quasi 106, 105 e qualcosa. Ricordo che il giorno che ha fatto 105 anni era nel negozio di suo figlio sotto e tutto vestito elegante, compagnia bella, entra un cliente e dice Signor Mangano, come mai oggi così elegante? Sa, dice, c'è papà che oggi compie i suoi anni. Ah sì, auguri, auguri, signor Mangano, 100 anni di salute. E tu lo dici, figlio bello, e che ti ho fatto di male? Dici perché? Perché oggi ne faccio 105. Hai capito? Gli augurava 100. Ancora 100 di questi giorni, quindi 204 anni. Adesso lui, che è così gentile, di fatto è di nome. Il Marco. È carino, è affettuoso. Qua non ci gira però. Ti accontenta, ti accontenta. E allora, per la gioia, per la delizia delle vostre orecchie, ma perché no del vostro fisico, perché soltanto con lei si può iniziare alla grande. Lei è Tina Turner. Grazie. Grazie. Ritorniamo in diretta. Turuzzo, dove sei? Ti sei addormentato? No. Aviamo uno studio colmo, stracolmo. Non dormo, non dormo. Sono appoggiato sulla coscia di un altro salvatore. Sono appoggiato sulla coscia di un altro salvatore, anche perché gli ho ceduto volentieri. Io conosco bene i miei polli. Le cosce vanno bene. È il boccone migliore. Yes. Penso proprio di sì. Aspetta un attimo. Tu arrivi, già incominci. Va bene che ti conoscono. La tua voce adesso è inconfondibile. Ma fatti presentare. Diamo spazio anche al nostro turi turi. Certo, anche perché adesso si tratterà un argomento che mi vedrà bello, comodo e ad ascoltare voi che parlate. Però abbiamo ospiti in studio. Intanto diciamo che sono le 12.08 minuti primi in Radio Doc che comincia la seconda ora del nostro programma. Un'ora dedicata agli ospiti. Oggi in studio... Aspetta un attimo, Toruzzo. Ferma. Un'ora. Diciamo che non sarà un'ora perché nonostante ci siano due ospiti, noi nel frattempo, mentre tu ti aggiornavi, leggevi i tuoi messaggi, noi abbiamo deciso di far parlare oggi il dottore Monastra. Mentre la nostra amica che sta alla mia... Guarda un po' destra. Che è? La vuoi presentare tu, turi? È una donna. Quindi io ti cedo la parola. Anche lei sicuramente non ha bisogno di nessuna presentazione perché ormai da qualche anno a questa parte è diventata una graditissima ospite dei nostri programmi ed è la dottoressa Linda Liotta. Buongiorno Linda. Grazie, grazie. Grazie per averci invitati e per dedicarci questo tempo oggi e abbiamo detto... Diciamo, io interverrò in maniera più evidente domani. Oggi diamo la possibilità al dottore Monastra di esporre l'iniziativa che si terrà al Cineteatro Rosso di San Secondo mercoledì 11 alle 18. Perfetto. Quindi noi cederemo la parola al nostro amico, ormai abitué. Diciamo, collaboratore di Radio Doc, a questo punto ti posso anche dare... Non esageriamo. Io vi ringrazio tantissimo per lo spazio che date alle iniziative che mi vedono, non dico protagonista, ma sicuramente partecipe. Io sono venuto più volte in veste di direttore artistico della Rassegna Teatrale. Quest'oggi vengo come... tanto come Presidente della Proloco che è organizzatrice assieme all'Accademia Musica di un evento che è patrocinato soprattutto dalle pari opportunità che sono rappresentate dall'Otto e Soghiotta, quindi nel comune di Capodorlando, senza il quale non potremmo assolutamente fare la manifestazione, non avrebbe neanche senso. Di cosa parliamo? Parliamo della quinta edizione di Mondodonna, che è una manifestazione da mediata cinque anni fa. allora l'assessore di pari opportunità era Cettina Scaffidi che sposò la causa mettendolo nel mese in rosa che è il mese di marzo. Quest'anno perché ci troviamo ad aprire? Ci troviamo ad aprire per un motivo di... non pari... di grandi opportunità. Cioè dire, a marzo ci sono state le elezioni nazionali e siccome ci teniamo a tenere questa manifestazione in maniera scevra da qualunque supposizione malevola e allora abbiamo preferito lasciarlo lontano e quindi ci siamo ritrovati in aprire. Voglio sempre precisare una cosa che è molto importante. Impegno, dedizione, successo. Cioè dire, si premia l'impegno, si impegna la dedizione a loro operare. Io dico sempre alle donne distinte nella quotidianità. Nella quotidianità c'è il lavoro, c'è l'essere mogli, l'essere mamme, l'essere atlete, l'essere giornaliste, l'essere politiche, essere tante cose. Però non siamo qua a premiare i primi della classe né di Capodorlando né della zona né d'Italia. Andiamo a premiare quelli che riteniamo di dover premiare per qualcosa che sicuramente è inconfutabile. Col termine inconfutabile credo che non ci sia termine superiore. Però certamente, e così come c'è Salvatore Motta, che è bravo con il microfono, ci può essere anche Salvatore Monastro, però Salvatore Monastro non si deve turbare se nel 2016 è andato a lui e successivamente andrà a un altro. Sì, allora, ti diamo la possibilità di rispondere al telefono visto che hai dimenticato di metterlo silenzioso. Masca il soncello, togli quella suoneria, mentre noi andiamo ad ascoltare un brano musicale. Ritorneremo a parlare sempre di questo evento particolarissimo che si terrà giorno 11 aprile qui a Capodorlando Mondo Donna. Questa è Radio Doc. Una canzone che sicuramente sarà piaciuta al nostro amico Salvatore Monastro. Ti piace, Emma? Salvatore? Tu che... Emma, ti piace? È la mia cantante preferita, lo sai bene. Per questo. Noi l'abbiamo fatto per te. Lo sai bene. perché noi adoriamo gli ospiti, li trattiamo veramente come se fossero dei familiari. Sono andato a vedere il concerto di Emma ad Acirreale e quindi questo ti dice tutto. Monastro, ti ricordi quando negli anni 60 suonavamo insieme? No, mamma mia, tu suonavi, non è possibile. Io suonavo il bongo. Il bongo. Il bongo suonavo. Il bongo, e come facevi? Bongo? Non chiedegli quanti anni aveva perché aveva 12 anni, io ne avevo 13, è stata la nostra prima esperienza. Sì, avevamo un complesso a Capodorlando, uno dei primi. Avevate un complesso un complesso mentale. Si è evoluto fino ad arrivare al gruppo finale che era del sottoscritto, Nino Leopardi alla voce, Michale, il dottore Michale? No. Non c'era? Portale. Ah, portale. C'era il dottore Portale al basso, Giacomo alla chitarra. L'avvocato Giacomo alla chitarra e alla batteria il... Gullo. Giacomo Gullo che conoscete. E poi c'era anche l'inverno. Rimembranza. Io non c'ero, no, io non c'ero. Ero a Palermo, c'era mio cugino purtroppo scomparso, Salvatore Ingrilli. e alla chitarra anche un altro chitarrista di peso. Saverio Giunta. Ciao Saverio. Comunque grande, grande Giacomo Gullo alla batteria, se ricordi, era veramente un grande, un grande. Eppure Turuzzo non l'avrei mai detto. No. No, no, no. Anche perché non segui la musica. Senza alcuna presunzione. Ritorniamo al discorso. Non chiuso il discorso. Fatto salvo il fenomeno artrosico, dico, ancora oggi potremmo fare e che poi c'è l'avvocato Giacomo che fa provare da mezzanotte in poi. Non è possibile. E poi quel discorso romantico. Non mai dire mai. E chissà. Torniamo a Mondodonna. A Mondodonna. Vi dicevo dedizione, impegno, successo. Sono tre parole che sono importanti, sono i requisiti per poter accedere a questo premio. Noi per una forma Ma te la posso fare una domanda? Come si stabilisce a chi deve andare il premio? C'è una giuria? Ci sono delle persone che... Più che una giuria c'è una realtà che ti circonda e che ti mette in evidenza le cose che accadono e che esistono. In genere ci consultiamo su proposte che provengono da nessuno. Da vari fonti. da quello che vediamo noi che ascoltiamo in radio che vediamo su Facebook che vediamo televisivamente che vediamo sui giornali e quindi... Questo Mondodonna deve riguardare soltanto Capodorlando e zone limitrofe? No, no, no. Tant'è vero che quest'anno abbiamo premiati che vengono da... non da molto lontano dalla nostra Sicilia ovviamente ma che meritano sicuramente il nostro applauso e quando un siciliano una siciliana in questo momento va fuori e porta alto il nome della Sicilia credo che sia coinvolto il nostro interesse poi io per forza di cose seguo tanto tanta tv poi quello che mi interessa soprattutto il mondo dello spettacolo in tutte le sue sfaccettature e quindi mi capitano fra le mani delle situazioni che tengo subito sotto la lente di ingrandimento. Quest'anno infatti ho visto una manifestazione nuova che ha avuto un audience di 5 milioni di telespettatori e che ha visto trionfare una delle nostre premiate che è il premio speciale della serata e mi riferisco a Sanremo Young che è presentato da Antonella Clerici di venerdì con le dovute illuminazioni con una giuria fortissima che era chiamata l'Academy con Mara Maionchi Marco Masini Rocco Ant i ricchi e poveri Mietta il direttore di Radio 105 RTL 102.5 Angelo Guairini e quindi praticamente ha vinto una ragazza di Catania eccezionale una ragazza 15enne si chiama Elena Manuele che avremo il piacere di avere qui a Capodorlando che prenderà il premio e quindi anche si esibirà altro nome evidentissimo che proposta devi fare che giuria ci devi mettere per la musica leggera quest'anno a chi lo deve dare Alice Caioli che è stata a Sanremo e poi mi sembra ovvio il terzo nome diciamo al netto di tutte le situazioni io avevo un nome che non è per la politica che non è più neanche deputata ma di fronte a una deputata che a Capodorlando non me ne frega niente quale sia il partito che rappresenta credo che sia normale doveroso conseguenziale spontaneo che si dia ad Antonella Papiro l'impegno c'è stato nella sua vita la dedizione anche il successo sicuramente glielo auguriamo perché è all'inizio della carriera come parlamentare però sicuramente col met up ha fatto tante iniziative si è mossa sempre bene fra l'altro senza nessuna vis polemica si è comportata veramente in maniera civile quindi riteniamo che possa sicuramente ben rappresentarci e ce lo auguriamo senti Salvatore Monasta ti faccio io una domanda adesso hai detto poco fa facciamo una pausa allora ci riserviamo la domanda per la dopo pausa va bene ritorniamo in diretta questa è Radio Doc sono le 12 e 31 minuti primi e siete sempre in compagnia di Terry Turi e poi del grande amico Salvatore Monastra e dell'amica Linda Liotta che ritornerà domani per poter parlare con noi ancora una volta di questo evento del quale il nostro grande Salvatore Monastra ci sta rendendo e dotti ricordiamo ricordiamo che l'evento è riferito alla quinta edizione di Mondo Donna che si terrà mercoledì 11 aprile quindi dopo domani alle ore 18 presso il Cineteatro Rosso di San Secondo sul lungomare Andrea Doria ricordiamo ingresso liberissimo e la quinta edizione della manifestazione Mondo Donna Salvatore hai detto poco fa per essere attenzionati dalla giuria dalle persone che giudicheranno se entrare o meno in una certa graduatoria per l'assegnazione di questo premio bisogna che una donna sia donna a tutti gli effetti cioè sia una donna sul piano del lavoro una donna sul piano della famiglia della politica del giornalismo adesso vorrei fare una domanda di parte ma secondo te la nostra Terri potrebbe avere i requisiti per essere attenzionata la domanda va fatta dal dottore Monastro è una domanda che non mi mette assolutamente in imbarazzo avendo Terri qui accanto alla mia destra eccetto che devi dire no 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 io rispondo con molta sincerità Terri ha i requisiti certamente se uno utilizza quell'anno il settore cioè dire non è che tutti gli anni noi abbiamo premiato ci sono dei settori tipici che premia tutti gli anni e prende il campo del giornalismo abbiamo premiato tutti gli anni abbiamo premiato Giuseppina Paterniti Fabiola Paterniti Silvia Perdichizzi Silvana Polizzi della Sicilia e quest'anno il nome non lo faccio come non l'ho fatto gli altri anni e certamente se noi toccheremo questo settore sicuramente Terri ha i requisiti ma io devo dire che ho i requisiti di mamma sono quelli premiamo sia mamma che figlie non è questo il problema tutte le mamme sono degne di un premio assolutamente il prossimo anno faremo le magliette forza Terri ti ripeto Salvatore la nostra non è una graduatoria di merito non esiste tant'è vero che guarda il primo anno quando abbiamo fatto questa manifestazione diciamo che non gliene fregava un piffero nessuno però l'indomani mattino l'indomani mattino per uno come me che è arrivato alla soglia lo faccio fra qualche mese dei settanta penso un po' quanto mi deve turbare questa situazione ma proprio per niente perché basta avere un criterio un principio una lealtà intellettuale un'onestà intellettuale tu vai avanti dritto tranquillo nella piazza Matteotti tu penso un po' ti racconto di cose capaci Capodollano ah e allora come mai la proloco è risorta c'è stato un tizio un simpaticone amico nostro che non citerò neanche sotto tortura il quale dice scusate ma questa è la proloco la riapertura la continuazione ma senza tortura lo dice no dimenticando dimenticando completamente che questa è una proloco che neanche si chiama più neanche proloco la dire si chiama proloco Capodorlando che cosa hai chiesto a quest'uomo tranquillo è giusto Terry tu mi conosci non ho bisogno di palinzesto di appunti io quando parlo parlo se trovo l'opportunità di togliermi non sassolini di dire quelle cose che non riesco a dire mazzacani di tirare di dirlo a 10.000 persone contemporaneamente utilizzo la radio quando c'è questa opportunità per cui dico il nome premiato in quel settore non è in assoluto il migliore lo sarà per magari il 90% dei cittadini ma si è distinto in un certo periodo di tempo ai requisiti del premio appunto e questo è importante comunque io ringrazio Turi però potevi fare anche a meno di mettere in imbarazzo il nostro amico nessun imbarazzo poi Turi sa che la mia passione è in tuoi confronti per cui appunto anche se tu mi hai detto che mi debbo assolutamente speranzare speranzare non c'è niente da fare comunque visto che lo stai dichiarando apertamente davanti a tutti io nell'eventualità decidessero di darmi un premio lo rifiuterei perché così che vuol dire ci fermiamo andiamo avanti andiamo avanti andiamo ad ascoltare un brano musicale ritorneremo fra qualche minuto grazie grazie a tutti bellissima questa canzone interpretata in una maniera fantastica dalla Paola Turci un'emozione da poco per ricordare la stupenda Anna Oxa sai perché l'hanno chiamata così? Turci? no no Anna Oxa Oxa? era tutta Oxa era tutta a pelle e Oxa ma ormai io ti conosco le solle le tue battute è scontatissimo 70-80% dai dai monastra dolcissimo ragazzo vi ascoltavo vi ascoltavo e pensavo a quando si esibì quando si esibì per la prima volta con questa canzone Anna Oxa stupendo tutti eravamo curiosi di sapere se era maschio o femmina e lei ci smentì successivamente quando cominciò ad avere un atteggiamento giusto di quello femminile di capelli tagliati bene diventata l'Anna Oxa dei giorni nostri io ho un bel ricordo di Anna Oxa mi ricordo che allo stadio quando fece il concerto a un certo punto voi sapete che alla fine c'è tutta questa quella manfrina che si fanno richiamare sul palco fanno tre pezzi che poi si poi se ne vanno vogliono applausi quella sera successa invece una cosa diversa mi ricordo c'era Silvio mio piccolissimo con me e lo tenevo per mano e l'Anna Oxa fece qualcosa di diverso si fece attendere dalla dalla macchina dalla Giulia dei Carabinieri per andare via io lo capì subito senza perché spensero le luci la vado ad attendere e mi ricordo che il mio grande amico adesso il generale catalano allora capitano a Sant'Agata mi fa assessore stia attento a quello che fa stia attento a quello va bene ci sei capitano stia tranquillo appena mi passò davanti mi offese questo suo atteggiamento non salutò nemmeno il pubblico che era venuto numeroso e purtroppo racconto un'azione della quale mi pento le ho tirato le ho tirato un calcio che ecco pelle e oxa l'ha ricordato l'ho centrato in pieno e mi è dispiaciuto e ti facci stupare no no abbiamo c'è stato un seguito perché anni dopo è venuta ospite qui a Brolo è rimasto una settimana qui c'era qualcuno che lo sapeva mi portò al gatto pardo hai chiesto scusa mi ha fatto fare pace io pretendevo che le scuse le facesse lei ai miei cittadini e l'hanno presentato come quello del calcio tutto il calcio minuto per minuto tutto il calcio è andata così il premio di Mondodonna lei non lo prenderà di sicuro comunque andiamo avanti dicevo quali sono quest'anno posso dire soltanto i settori i settori sono associazionismo l'impegno dell'anno il giornalismo avevo pensato inizialmente che c'era pure il settore della della ristorazione avevamo contattato chi per noi meritava il premio quest'anno e e non faccio il nome neanche sotto tortura no per carità non ti vogliamo torturare basta che ci dici chi e non vogliamo sapere niente sono quello vogliamo sapere insomma ci stiamo divertendo ci disse che doveva di parlare con il suo fratello che era il suo manager il fratello ci sa che era impegnatissimo all'estero parzialmente davvero ma non in quella data chiaramente e così via quel settore quindi quest'anno non lo tocchiamo e poi c'è l'impegno della politica l'abbiamo già detto l'impegno musicale musica leggera poi abbiamo la musica classica è una ragazzina che suona magnificamente il pianoforte c'è la danza moderna e la danza classica e quindi anche il ballo e poi e poi per poter scoprire i nomi e di tutto e di più bisogna andare l'11 aprile alle ore 18 dove tu che tu ormai hai letto e sai tutti andate al cineteatro rosso di San Secondo sul lungomare Anderatore di Capodorlando alle ore 18 vi ricordiamo l'ingresso è libero è gratuito vogliamo dire sono sicuramente due ore di bello spettacolo e da chi sarà presentato da te? no sarà presentato da Sergio Granata e da Alessandra Di Bello che sono i conduttori storici di questa manifestazione che hanno già un'esperienza e quindi poi con Sergio Granata vabbè siete andati sul sicuro Sergio con Alessandra esatto una coppiata vincente ricordiamo gli sponsor comune di Capodorlando l'Accademia della Musica e la Proloco Orlandina degnamente e meravigliosamente rappresentata dal qua presidente Salvatore Monassa e basta sono aggettivi sono aggettivi che ti meriti io ricordo Salvatore un aneddoto ed è vero nel 1991 quando tu a Capodorlando avevi l'assessorato allo sport e portavi tutto quello che portavi ma non lo voglio dire ora e capirai perché io mi trovavo in quel di Venezia e siamo scesi a Mestre per prendere un mezzo che poi ci portava a Porta Garibaldi a Venezia eccetera eccetera quei signori ci hanno chiesto voi di dove siete ora io per mia abitudine quando mi dicono di dove siete non dico mai né che sono siciliano né che sono della provincia di Messina io dico sempre io sono di Capodorlando perché secondo me Capodorlando è conosciuta in tutta Italia e oltre quando questi signori hanno sentito di Capodorlando mi hanno subito detto la Madonna la padria del pugilato è vero mi hanno risposto così e adesso ti direbbero la padria del pugilato la Madonna la padria del basket perché il Salvatore qui presente allora riusciva a organizzare incontri di pugilato a livello mondiale europeo e titoli italiani andiamo per ordine proprio crescente abbiamo vissuto momenti molto belli io mi ricordo di Nino Larrocca Nino Larrocca dai no lascia perdere io mi ricordo degli eventi particolari qualcuno mi dice mi hai messo su questo pianista qualcuno mi dice ogni tanto ma chi avete portato musica leggera fai più presto a dirmi chi non avete portato e io ti dico subito un nome per tutti e che oggi purtroppo quando lo dico vergogna mi dico addirittura che non abbiamo portato non ho voluto Vasco Rossi gratis e tamore dei mi hanno chiesto il campo io mi sono inventato per il 23 di agosto di quell'anno che doveva allenarsi l'orlandina che doveva fare il campionato e quindi il campo era occupato e beh adesso che cosa fai sei pentito lo feci non sono pentito l'occasione in cui lo feci fu perché aveva fatto un concerto alle Toianni in quell'occasione era successo che un ragazzo si era buttato sotto il treno in preda ai fumi della droga e questa cosa mi traumatizzò tanto per cui ci fu un periodo in cui proprio sentire il nome di Vasco Rossi mi dava fastidio oggi amo le sue canzoni a cominciare da Un Senso e tutte le altre belle canzoni bene allora arrivati a questo punto noi alle 12.53 minuti primi abbiamo veramente raggiunto l'obiettivo abbiamo finito con il nostro programma però prima di passare i saluti anzi vorrei che la dottoressa Liotta a questo punto salutasse nello stesso tempo sì nello stesso tempo qualcosa da dire mi riservo domani mi riservo domani mi riservo domani a approfondire alcuni punti sulla manifestazione di mondo donna giunta alla quinta edizione è importante ribadire che il terzo punto di questa manifestazione come diceva il dottore Monastra è il successo abbiamo cercato di mettere insieme delle donne che comunque sono ancora proiettate nel futuro cioè noi non stiamo premiando soltanto delle donne che hanno fatto già qualcosa ma che sono proiettate che faranno sicuramente grandi cose per il nostro territorio per tutto l'Internet questo è importante ribadire il futuro della donna futuro donna sì sì no perché altrimenti non si comprenderebbero alcune premiazioni ci sono tanti giovani tante promesse ed è importante valorizzare queste potenzialità del nostro territorio quindi dobbiamo spingere spingere a che le donne possano essere sempre di più padrone di questo mondo yes lui dice calma è sanguebretto ci sono i mascoli Monastra ritiro la candidatura di Terry va bene abbiamo comunque l'appuntamento è per domani con Linda che sarà ancora esplicativa di questa manifestazione ne ha il diritto e il dovere di farlo e lo farà in maniera magnifica io vi ho appuntamento per mercoledì 11 alle ore 18 al Cineteatro Rosso San Secondo mi raccomando che non mi dispiace sentirmi dire dopo non l'ho saputo percato ci sarei venuto con piacere veniteci con piacere e ne uscirete sicuramente soddisfatti ci sono le locandine grazie a Terry e a Turuzzo perché senza di loro questa voce non arriverebbe dove sta arrivando grazie grazie a Radio Doc grazie grazie a tutti e siamo in chiusura abbiamo finito anche per oggi domani domani la tua ospite già sappiamo chi è abbiamo anzi avrai ospite Linda Liotta e grazie a Salvatore Monastra grazie a Linda grazie a Terry grazie a tutti e l'appuntamento con noi due ciao facciamo al solito ma sì dai amatevi grazie a tutti 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 grazie a tutti